Dottoressa Ciccone, lei è a Crotone perché ha fatto una donazione per i detenuti della casa circondariale di Crotone? Sì, praticamente ho visto sui social che il garante dei detenuti di Crotone, l'avvocato Federico, proponiva questa iniziativa per il regime carcerario di Crotone. Ed essendo che io sono una persona che contribuisce anche in altri luoghi di tutto il mondo alla beneficenza, ed è giusto che sia fatto anche per il regime carcerario, perché per una mia idea io credo che la libertà deve essere pagata con la reclusione, non con la dignità. Ad oggi ci ritroviamo incontro in estate molto ma molto torbida, dove appunto i detenuti vivono già una condizione molto difficile e le alte temperature sicuramente non traggono benefici in quanto anzi subiscono ancora di più questa reclusione che loro vivono quotidianamente. Quindi ho pensato con un semplice ed umile gesto di donare un ventilatore a batterie, perché come noi sappiamo il regime carcerario non è immunito di corrente nelle stanze, nelle celle, e quindi ho pensato di donare questi ventilatori a batterie. Lei di dov'è? Io sono di Avellino. È venuta a Crotone di Avellino per questa donazione? Sì, veramente se avrò la possibilità che anche altre case circondariali mi daranno questa possibilità, io pongo la mia disponibilità anche per le altre strutture carcerarie. Perché questa disponibilità? Perché io credo che appunto come ho detto prima, la pena va scontata con la reclusione, non con la dignità delle persone. Noi all'esterno siamo un po' più fortunati perché abbiamo la possibilità di avere i condizionatori, di avere appunto un ventilatore e purtroppo queste persone ad oggi, se non la prima casa circondariare di Crotone che ha aderito a questa bellissima iniziativa, avranno anche loro la possibilità di avere un ventilatore. Quindi le sta dicendo fare anche tra l'altro beneficenza significa stare vicino a chi è in sofferenza? Sicuramente sì, io sono del parere che la vera beneficenza è questa, è quella che la si vive e la si tocca con mano.